ecco voi la nuova serie r one man xl abbiamo voluto puntualizzare l'xl sul nome del prodotto perché proprio grazie a questa intelaiatura molto più alta siamo riusciti a esagerare con le misure per il maggior comfort e il maggiore spazio nella tenda telaio a cappottina con le nostre tre stecche in alluminio tutte di 19 mm con tre pali estensibili centrali e due pali sul lato questo per tenere in tiro la cappottina e per non far piovere dentro la tenda sulla cappottina sono presenti due strap per poterci appoggiare le nostre canne nel cambio terminale o nel cambio rig nella parte posteriore della tenda abbiamo queste due grandi finestre il top sicuramente d'estate per poter reggiare al meglio la nostra tenda nella parte frontale abbiamo queste due finestre dove sotto abbiamo la zanzariera e la porta possiamo scegliere se avere la zanzariera il trasparente o il color cachi come questo una tenda veramente versatile per tutte le nostre situazioni di pesca e e e e e e e